Uno dei grandi temi in vista delle elezioni regionali è sicuramente quello legato allo sviluppo del turismo come volano per il rilancio dell'intera economia laziare. Fra le regioni delle capitali europee, Lazio conquista il terzo posto dopo la regione di Londra e Parigi. Una buona performance di certo, ma bisogna continuare a proporre delle politiche per mantenere competitivo il sistema turistico regionale. La candidata del Popolo della Libertà, Renata Polverini, dice che è necessario rispondere a questo momento di crisi generale con da una parte il mantenimento degli insiedimenti industriali e dall'altra investendo in particolare nel turismo e nell'agroalimentare, settore nel quale si può rilanciare il Medi in Lazio e perché no attirare turisti con percorsi enogastronomici che partendo da Roma tocchino tutte le province razziali. Sul campo opposto, nel centro-sinistra, la candidata Emma Bolino propone di aumentare il turismo attraverso accordi con i freddi paesi nordici per i quali il Lazio ha un clima tiepido nei mesi invernali. In campo, a sostegno della Polverini, anche l'alleanza di centro di Francesco Pionati, il capolista Pasquale Donato, è stato già assessore al turismo della regione Lazio, ottenendo risultati importanti come il rilancio di Villa Adriana a Tivoli. Il Lazio non è solo Roma, ci sono posti bellissimi, meravigliosi nella provincia e nelle altre province razziali che bisogna potenziare, bisogna sviluppare per poter rendere anche lì come punto e polo di attrazione per tutto un turismo internazionale. Io, guardi, nella mia esperienza di assessore regionale al turismo, dico sempre a tutti gli amici e a tutto quanto io, comunque andata con l'esperienza, ho una grande soddisfazione che è stata la più importante per me. Io vi ricordo che un giorno andai a Villa Adriana a Tivoli, dico questo per esempio per dire cosa si può fare per il Lazio. E allora era tutta ancora piena di sterpagli, non era utilizzata, non era niente. E allora dico, questa è una cosa bellissima, meravigliosa, anch'io non la conoscevo, la conoscevo così perché non era visitabile, non era fruibile dagli cittadini. Allora mi sono messo di punta, ci ho lavorato un anno, utilizzando dei fondi europei l'abbiamo prima pulita, poi abbiamo creato l'illuminazione e poi io l'ho proposta al mondo intero. Per un anno non ho fatto altro che promuovere Tivoli, Villa Adriana e torno per il mondo. La più bella soddisfazione è stata quella che l'UNESCO l'ha dichiarata patrimonio dell'umanità. Grazie a tutti.